Ciao a tutti e bentornati sul canale, oggi faremo una comparazione tra il DualSense e i controller che vedete esposti. Abbiamo sulla sinistra un NACOR Revolution di prima generazione, al centro abbiamo un DualShock 4 del Day One e a destra abbiamo il nostro SN30 Pro Plus della 8-Bit Do. Abbiamo acquistato il DualSense in giornata da 1€, dopo la live in cui Eugeo ce l'ha unboxato davanti non potevamo fare a meno di averlo anche noi, visto che PS5 ci arriverà il 19 forse. Abbiamo pensato comunque, dato che abbiamo un controller solo e siamo in due, di acquistarne un altro. Abbiamo acquistato anche la basetta di ricarica, ma quella magari ce la lasciamo poi per un'altra occasione. La prima comparazione che farei è tra il DualSense e il DualShock. Allora, li mettiamo qua uno di fianco all'altro. Quello che risalta è il cambio netto che è avvenuto in termini di design, in termini soprattutto di forma. Gli archi sono molto più accentuati, non abbiamo più questi cerchi rialzati. Questa volta i controlli, tutti i tasti frontali, sono direttamente sulla scocca. Si nota soprattutto anche dalla croce direzionale. Sono cambiati totalmente, sia in forma che in, diciamo anche posizione, perché la posizione è leggermente differente. I tasti share, che sul DualSense poi si chiama create, e il tasto option. È cambiato anche il tasto di accensione, che qua era un semplice bottone cliccabile. Qua in realtà è un simbolo PlayStation che possiamo andare a cliccare. Abbiamo anche l'aggiunta del tasto move. Beh, direi che una delle differenze più importanti sta nell'ergonomia. Il DualShock ci ha accompagnato sette anni. Questo in particolare brandizzato Fallout 4, infatti si vede è un po' logoro. Aveva un'impugnatura, direi salda, comoda. Era piccolino. Molto leggero, però anche abbastanza scricchiolato. Sì, molto leggero, però esatto. Il problema del DualShock è questo. Scricchiola veramente tanto ora. Sono poche le persone che stringono il pad con abbastanza energia da farlo scricchiolare. Però comunque è una cosa che dipende dalla qualità costruttiva, dalle plastiche e da come sono montate tra di loro. Una volta impugnato il DualSense si percepisce subito una gran differenza. Sia per questa parte scavata, con cui andiamo in contatto con la parte dorsale del palmo, la parte più esterna direi quasi pollice. Accompagna meglio la mano. Sì, diciamo che accompagna meglio la mano. La parte posteriore, come potete vedere, è decisamente diversa. È forse dato un po' anche dalla diversa angolatura delle corna, chiamiamole così. Un po' anche dalle plastiche. Infatti dietro abbiamo il famosissimo grip che ci permette di avere una presa molto più salda. Un'altra piccola differenza, una piccola chicca, e qui tiriamo in ballo il Nacon, prima di fare una comparativa vera e propria con lui, sta nei tasti frontali. Il pad curva. Non è dritto come il DualShock. Come già detto aveva i tasti all'interno di quel cerchio che andava poi dopo a fungere dall'oggio per i face button. Questa volta, come già detto, sono direttamente sulla scocca e questo si traduce anche in una tipologia differente di tasto. Difatti il tasto cerchio, come si può vedere, tende a curvare. Segue la linea del controller. Segue la linea del controller e quindi ha una piccola, anche se facilmente percettibile, curva. Proprio come il Nacon. Eccolo qui. Come ergonomia me lo ricorda tanto. È molto simile. Questo è molto più simile, direi, a quello Xbox. Al controller Xbox. Come ergonomia diciamo che ci siamo molto. Si riesce a vedere che anche come tipologia di forma sono molto simili. Sono un po' più bombati, ecco. Sì, come bombatura sì. L'analogico lo riprende tanto. L'analogico sì, parecchio. Anche come tasti siamo lì. Quelli del Nacon sono decisamente più grandi, ma più vicini tra di loro. Quelli del DualSense sono molto più spaziati, quindi è difficile. E' difficile fare una pressione sbagliata. Sì, ragazzi. Vi lasciamo l'audio originale. Almeno riuscite a percepire anche dove stanno le vere differenze. E' estremamente silenzioso, ragazzi. Veramente, veramente tanto, tanto, tanto. Che gli analogici hanno tutto un altro feel, un'altra corsa. E' totalmente diverso. Al tatto fa percepire molto la differenza. Una cosa che non abbiamo visto riportare praticamente da nessuno è questa. Se voi vedete bene, c'è un piccolo gap tra questa plastica nera e la plastica grigia. Secondo noi, diciamo quel bianco sporco, secondo noi qua si potrebbe depositare parecchia polvere. E non è un aspetto propriamente positivo. Diciamo che sono minuzie, però sono minuzie che mi sarebbe piaciuto leggere riportate un po' da chiunque. Non si sente molto lo scavo nella parte superiore. Non si sente per niente in quella inferiore. In mano si tiene veramente una meraviglia. Il feed dei tasti Create e Option è totalmente diverso. Sono molto più duri da premere. Ti danno proprio una risposta decisa che ti fa capire di averli premuti. Anche perché a questo giro sono rialzati e non sono scavati all'interno del controller come era nel DualShock 4. Anche qua riesce a percepirlo, però erano posizionati in maniera tale che non erano proprio comodi da premere perché troppo vicini ai tasti e allo stesso tempo troppo vicini anche al touchpad. Nel Nacon sono molto più simili. Nel Nacon sono più simili anche se pure qua condividono un pochino troppo la vicinanza ai tasti. Soprattutto il tasto Share è troppo vicino allo stick sinistro. Non è semplicissimo da premere. Abbiamo tenuto in disparte questo controller perché questo controller è un controller molto particolare perché ha un prezzo molto più basso rispetto a tutti quelli presenti. Noi l'abbiamo pagato all'incirca 40 euro su Amazon. Ed è un controller che ha delle qualità veramente eccezionali perché ha una precisione estrema e soprattutto un'impugnatura molto comoda a discapito delle apparenze. Questo controller praticamente va a unire i pregi del DualShock e del controller di Xbox oltre a quelli di Nintendo. Per il prezzo a cui viene proposto è decisamente un best buy però riuscirà ad essere migliore di questo? Come ergonomia direi che è veramente tanta roba. Tasti decisamente rumorosi, croci direzionali vecchio stile, stick super rumorosi, start e select stile PS3. È un po' datato come pad però la qualità dei gommini, degli analogici è buona. Non ti fa perdere presa. Non mi piace come sono posizionati start e select che sono anche asimmetrici rispetto al controller. Sono spostati a sinistra. Non mi fa impazzire come cosa. I tasti dietro sono molto simili a quelli del DualSense per quanto riguarda la corsa e la resistenza. Poi ovviamente ragazzi c'è il DualSense, c'è una cosa completamente diversa che qui non vediamo. Sono i trigger adattivi. È un po' più decisa la resistenza, si sente. Cioè ragazzi parliamo di un pad da 70 euro del 2020 con un pad di non so che anno da... Quanto costa? 40 euro. Noi l'abbiamo pagato 38 euro. Cioè ragazzi, le differenze ovviamente sono quello che sono. Poi questo qua l'abbiamo usato principalmente per PC gaming. Comunque c'è il DualSense adesso è pressoché inutile perché non possiamo utilizzarlo con niente. È una comparativa... Solo che possiamo utilizzare su PC volendo. È una comparativa che andiamo a fare solo per quanto riguarda l'ergonomia e quello che possiamo dedurre guardandolo e toccandolo. Ad esempio, i tasti hanno una corsa a mio avviso giusta. Un difetto che ho riscontrato è nella croce direzionale che si può spostare a destra e sinistra e se si sposta fa dei rumori veramente terribili ragazzi. Questo è veramente brutto. Questa è una cosa terribile e non l'ho notato facendola apposta. Mi è successo per caso muovendo così il controller. La silenziosità dei tasti del DualSense è dovuta a delle contromisure che Sony ha adottato per rendere il controller il più silenzioso possibile. Sony è andata ad inserire delle membrane nella parte superiore del controller per andare ad attutire il colpo di rientro del tasto. Quindi quando il tasto viene premuto tu non percepisci differenza. Quando torna sopra ci sono questi gommini che servono ad attutire il rumore. Ed è una cosa interessante perché molti di voi avranno provato a fare streaming avendo il controller vicino al microfono e spesso si sentiva un casino infernale. Così ad una prima occhiata possiamo dire che il passaggio da DualShock 4 a DualSense è netto. Possiamo dire che questo controller la prima cosa che ti fa percepire è che ha tutto molto deciso. I tasti frontali sono decisi. Questi due tasti hanno una pressione decisa. Gli analogici hanno un feel più deciso. I trigger posteriori L2 e R2 sono molto più marcati e più decisi. Questi due tasti dorsali superiori L1 e R1. Anche questi hanno una corsa differente ed hanno un feel più marcato. Ragazzi si vede che Sony ha investito molto, molto, molto nello sviluppo del proprio controller. Anche perché comunque è quello che rapporta il giocatore con il videogioco. Ok la grafica, ok il salto generazionale ma mi sembra ovvio che Sony a questo giro ha puntato quasi tutto sull'esperienza. Piuttosto che sul wow grafico. Anche se comunque visto di Mon Souls come titolo di lancio penso che possiamo aspettarci grandi cose. L'unica cosa che mi sento di criticare è il materiale dei gommini perché io ad esempio adesso ho già le mani leggermente sudate e sento lo stesso feel che mi restituiva il DualShock 4. Quindi secondo me nonostante il grip nuovo che hanno messo in questa zona potrebbe alla lunga dare fastidio nei movimenti. Cosa che ad esempio non riscontro utilizzando questo controller che ha una texture più opacizzata e non so restituisce proprio un feel differente al tatto. La mano non suda, non dà fastidio. Quindi secondo me potrebbe essere uno dei difetti del DualSense. Vabbè sono cose che vanno testate alla lunga ragazzi. Ad esempio il Nacon aveva questa forma molto scavata all'interno pur non avendo un grip esterno come si può notare. Non ha un grip esterno perché è liscio all'esterno. Poi c'è una trama interna. Ha una trama interna che però gli dà un bordo abbastanza marcato e quindi il dito non scappa. Ma poi gli stick sono anche decisamente sopraelevati rispetto a quelli del DualSense. Uno dei problemi che aveva il Nacon è questo. Il cigolio di R2. R2 cigolava tantissimo. Però hanno decisamente un feed ottimo. Perché come il controller di Microsoft questi tasti L2 R2 vengono verso l'esterno quindi accompagnano il dito. Il dito viene accolto all'interno del trigger e quindi l'alloggio è molto semplificato. Qua invece tendono ad andare verso l'interno e quindi il dito non è accompagnato alla stessa maniera anche perché la curvatura è decisamente minore. Sono minuzie però bisogna testarlo a lungo andare. Posso dirti la mia? A me il Nacon non è mai tornato un cazzo. Te lo dico schiettamente. Quelle poche volte che ho utilizzato il Nacon su Destiny l'ho utilizzato solo per questi. Che sono i tasti posteriori. Per cercare di avere in PvP schivata, cioè rollata e salto, scivolata e salto per poter fare le combo. Per il resto come ergonomia niente da dire. È un po' più curvo e sì ti porta ad avere una presa più comoda sugli analogici. Però complessivamente ho sempre preferito il DualShock. Anche per una questione di dimensioni un po' più compatto. Non so. Il DualSense mi dà l'impressione di essere molto in linea con il DualShock. E tra tutti è quello che per adesso mi sta dando un feel più comodo. L'unica cosa sento che con il sudore della mano, che per ora è leggerissimo, qua non succede assolutamente niente. È tutto a posto. Però qui, a parte super liscia, è troppo scivolosa mi sembra. Poi comunque ragazzi, lo testeremo meglio il 19 quando arriverà la play, faremo mega live su Astro, Demon's Souls e compagnia bella. Però effettivamente il problema sudore potrebbe essere sempre interessante. Questo qui ad esempio ragazzi è tutto, tutto, posso dire poroso. Con il fatto che è porosa la plastica e non è liscia, con il sudore non si muove eccessivamente. Senti soprattutto gli analogici. Sì, l'analogico, la parte interna fa un grip bestiale. Eppure non ha una grande trama, è proprio a livello di... Sono i materiali, la gomma. Però boh, cioè esteticamente è bruttissimo. A me piace un casino proprio per il suo aspetto. A me no, poi non riesco a tollerare sta cosa qui che è asimmetrica da morire. Spostato a sinistra. Veramente brutto. Solo perché hanno voluto rendere questi spaziati a sta maniera. Ammetto che non mi torna granché questo controller qui. Poi questi mi sembrano troppo spostati verso... Cioè hanno una forma strana che non mi permette di... Perché non si è abituato a giocare con altri controller. Perché in realtà quei tasti tornano molto bene proprio per la curvatura che hanno. Se vedi hanno una curvatura molto... Sì, ma perché sono super lunghi. Cioè io preferisco una cosa un po' più corta così, ma più larga. Vedi questo tasto può essere premuto in qualsiasi punto che viene percepito il tocco. Che è una cosa che è difficile da fare. Sì, ammetto che non mi fa impazzire. Se dovessi metterli in classifica come bellezza, palesemente uno, due, tre, quattro. Perché sarebbe uno, due, tre e quattro. Come ergonomia, faccio un test veloce. A prima sensazione direi uno, due, tre e quattro. Però questo ha dei pregi che non hanno gli altri. Ovvero il sudore non fa niente. Io li metterei in ordine di ergonomia. Uno, due, tre e quattro. Sì, vabbè, è una cosa puramente personale, regà. Dove metto questo per primo? Per chi ha le mani sudate, un pad con dei materiali del genere è decisamente più consigliato. Perché non fa sudare la mano, anzi te la fa sentire asciutta. Cosa che questo e gli altri tre non fanno. Vabbè, questo non possiamo ancora dirlo, c'è a vedere durante una sessione di gioco. Io te lo dico adesso avendo le mani abbastanza sudate per il calore. A me spaventa un pochino tutto questo mix di plastiche, curve, che si assemblano, disassemblano. Cioè ho paura che se mi cade per terra, papà, mi rimane tutto in mano. No, perché questo è tutto un blocco. Questo qua è tutto un blocco. Questo pezzo qui è tutto intero, non è che tiene via. Ah, ok, allora. Quindi ragazzi, la comparativa è una cosa puramente personale. Ovviamente noi vi abbiamo riportato delle cose oggettive dal punto di vista dei rumori, della qualità costruttiva. Però per quanto riguarda l'ergonomia, ragazzi, è una cosa strettamente personale. Perché dipende tanto con cosa si è cresciuti. Io che sono cresciuto partendo da PlayStation 1, eccetera, eccetera, sono molto più abituato a dei controller con questa conformazione. Difatti il DualShock è un'evoluzione del controller di PS1, PS2, poi PS3 e siamo arrivati al DualShock 4. Il DualSense, pur essendo estremamente diverso dal punto di vista del design, è un'evoluzione rivoluzione. È un'evoluzione perché comunque è tutto al proprio posto, però hanno fatto questo enorme cambio di design, anche di materiali. Mi sembra tutto molto diverso. I materiali sono enormemente migliorati. Che dire, noi aspettiamo di poter utilizzare il DualSense come si deve e poter godere dei trigger adattivi e del feed aptico. Se avete delle domande da fare potete scriverci qui nella sezione commenti. Se siete interessati all'acquisto di uno di questi controller vi lasciamo tutti i link in descrizione. Sì, anche perché magari da Amazon li trovate a un prezzo più basso che in negozio, quindi controllate la descrizione. Al prossimo video, un saluto dai Crew Dudes. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti.